oh bella ragazzi bentornati in un'altra puntata di bsquare del gaming last il canale più scoppiettante di tutto youtube esatto ancora meglio di quello di britney spears vabbè ma che cazzo ti scherzati ma tu adesso hai capito che cosa cazzo dobbiamo fare e c'è un nuovo obiettivo possiamo vedere scusate gli obiettivi lo sai già chiaro a onore della cronaca capo a me queste cose qua non sono mai state chiare ma non ci sforziamo neanche un minimo sto correndo verso verso dove indica sul pad sai che temo che tu debba tornare indietro guarda che sto coglione che dopo un po smette di correre non troppo lontano qua ci ha dato la chiave per qua sicuro ma porca troia si è spenta la luce si no 40 che cazzo si rumori fa la tua lavastoviglie lavatrice ma non lo so ma 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 il bello fu che proprio cioè mia madre lo chiese al venditore gli disse ma 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 è silenziosa vabbè capo ma il c'è il venditore è ovvio che gli sta scammando cioè gli dici scusi questa lavatrice vuole ho capito però perché tra tre modelli con lo stesso prezzo mi dici che che uno è perché uno in realtà era overpriced e tu non lo sapevi erano tutti a 300 euro invece quello lì in realtà costava 200 una volta mando te con mia madre a comprare una lavatrice ok dopo una mazza da baseball lì comincio a picchiare il venditore fino a quando non mi dice la verità solo che poi non so come fai a sapere se ti sta dicendo la verità o si vuole solo salvare la terra eh infatti cioè me lo so sempre che ma è che tu non gli dici aspetta prendi la cosa e dici e se questa cosa farà rumore io tornirò tipo terminator quando diceva I'll be back scusa ma come nei film no quando tipo prendono il tipo no e cominciano a picchiare a strappare i denti per farsi dire dov'è e tu dici che cazzo è stato e tu dici il nome di un tizio a caso eh ma perché tecnicamente questi qui usano l'incentivo di dire guarda che se non hai detto la verità ti strappo tutto il resto capito comunque ragazzi vi dovete droppare un like su facebook proprio ma come se non ci fosse un domani da tutti i vostri account e quelli fake e quelli originali quelli fetish tutti 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 e proprio tutti e voi per favore seguiteci su sto cazzo di twitter figa ma è così importante seguici tutti a me sembra proprio una cagata ma ci sono un sacco di foto carine chi è chi è chi è quello là è vomitino o esplosivo vomitino una trappola mortale vero hai ancora in tempo a raggiungere la stazione di servizio eh ok fai come vuoi sai che prevedo il legno oh a me l'abbiamo trovato ma non è un problema mio tanto la porta non fa una grande differenza visto che morirai no cazzo l'ottimismo eh ma perché porta sfiga cioè ma io non lo so la prossima volta ciupa cioè sto portando la benzina aspetta cosa faccio con questo lo doppietto non lo so guarda gli corro addosso la lui ti deve aprire una porta aspetta che là in fondo c'è il problema è che mentre ti apre la porta ti arrivano altri zombie qui avrai due strade o sciupi tutti i proiettili e li uccidi tutti aspetta un attimo ma qui non si risale più? no mi stavi sentendo naturalmente lì c'è un barotto esplosivo eh ricordato mi hai sentito quello che ti dico? adesso arriverai una porta e questa porta qui io ho paura mi sono nascosto qua dietro ok questa porta qui praticamente lui te l'aprirà ma ci metterà un minuto ma lui chi? ah il prepper aspetta in questo minuto arriva arriva l'esercito della salvezza in formato zombie e quindi andiamo di il problema è ci sono due strade o giri in zonzo corri cammini corri cammini e fino a che non ti apre quella porta allora sei in una safe area o li affronti tutti e sciupi tutti i proiettili te ne hai presente che da qui in poi è in salita per il numero di zombie quindi a te it's your choice puoi usare Bengala puoi usare tutti i trucchi di questa terra forse conviene usare Bengala no adesso no cioè perché adesso è bello deve venire eh ho capito ma prepariamoci per l'evenienza c'è già un Bengala di qui e una Molotov di qua ok voi non potete vedere ma adesso vi descrivo la scena c'è praticamente lo zaino poi avete tre slot in alto a sinistra e tre slot in alto a destra in cui potete mettere armi munizioni ora c'è un'altra cazzo eh oro incenso mirra e le figurine panini e ora praticamente c'è una granata c'è un'altra cazzo oh cazzo ti ha visto qualcuno vai indietro per favore che cazzo è stato c'è uno stronzo no guardati in giro shh che devo evitare il tipo si ma non muoverti troppo perché guarda che ci sono altri guardami il coso ce n'hai uno dietro no quello lì lo fermo però ma quello lì non è uno zombie cazzo si però c'è sto cazzo di radar che ancora non hai capito quali sono i zombie questi qua non sono zombie i zombie sono quelli che fanno è sempre rosso ma è non so i contorni non sono definiti guarda quella porta che non me la ricordo più non penso che sia quella che è caro il mio animale raggiungi l'asilo proprio pedofilo insider mi pareva questo di qua ce ne fosse un altro che lo schwarze sia con te vai a prendere quell'oggetto così mi piace quando ti accovacci ok che cazzo fuggolcino volkswagen volkswagen ho capito che l'inventario è pieno ma cosa c'è ah fammi vedere ah una granata no minchia questo è chill out a parte che potresti mettere anche questo già adesso ma se trovessimo questo tanto è un colpo solo ce ne facciamo un cazzo di queste cose qua io avevo già grandi progetti per la balestra pensavo di fare rambo di attaccarci la mina sulla balestra e poi cazzo erano cazzi andavo su un tetto e cominciavo a sparare a tutto ciò che si muoveva cos'è? cos'è? foglietti lo so cane di animale l'acqua è pieno però che tipo di z beh che poi arriveranno hai capito ma qui è non ho capito è una pozzanghera che cazzo è sta roba? uccidi questo stronzo che è nascosto nella pozzanghera ma dove? è nero quello è un bengala ma non capisco chi è acqua non capisco se non lo so micibutto ma si dai simila fanghiglia ricordati l'ubicazione di questi barattoli di vesine ocio che ci guardami questo qua che che non si muove quello lì per il momento non si muove non andarli però in campo visivo mi raccomando è bravo ci provo ci stai senti a questo punto visto che è da solo quello zombie vallo a staccadillo scroto a padellate intanto adesso arriva sai che per un secondo letto prigia LR per punirlo che bello cosa c'è là? lettere di D e serve una scheda però io non ho capito che cazzo gli servono ste lettere di D che poi sono di Lady Diana probabilmente per sono le ultime lettere di Lady Diana quelle in cui dicevo sono corvi cazzo si ma comunque guarda ora senza spoilerarti niente preparati alla morte cioè devi devi essere ti giuro devi essere smart a sto giro preparati sai che non sarò mai smart kit pronto soccorso medico come faccio a sapere? questo qui è quello più grande è un gioco tutti grandi non si può salvare eh no perché poi ma qua c'è un'uscita però sai che a parte che qua c'è un po' di tipo ciao cosa è successo? è sparito ma scusa il radar non lo vedeva? perché era fermo si sono il radar individua le cose che si muovono se questi stronzi stanno fermi tu non li vedi è quello il problema ma quando è che inizierebbe questa situazione di grande disagio? quando devi aprire quella porta qua si sale no questa qua? si o a quella dopo quanto manca? c'è una porta che o adesso o quella dopo ok quella dopo fai attenzione quella dopo però non c'è niente più io per più maestro si sono rifugiate dentro con i bambini ma non è più uscito nessuno no io ti prego io spero di non vedere bimbi zombie che avevo già visti in dead space ma l'ho fatto un certo effetto capito doc sono tipo sensibile al fondo fuori che cazzo vabbè ci dovrebbe essere un bambino zombie su di qua dov'è? dov'è? dov'è proprio davanti a me guarda in alto ma no sarà il fottuto ma sai che cazzo è? il fottuto corvo che c'è fuori ma la caga qua dietro ci dovrebbe essere qualcuno Santa Claus? che cazzo è? ricorda sei lì per la medicina e nient'altro prendila e dattela a gambe qui mi aspetto sempre che arrivi qualcosa aspetta la luce come si è messo 87 e 6 si è messo bene serve un grimaldello bengala qua dietro non è che c'è una cosa da conto figa c'è anche quella dietro l'ho proprio chiamata cosa c'è? ah il bengala qua sotto non si può andare no? no 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 guardate guardate c'è una stanza qui vuoto vuoto tutto vuoto ma guarda se ci sono indizi tipo l'ispettor capitone niente mi sto continuamente chagando in mano perché dopo che mi hai detto quella roba lì no ma te l'avviso adesso perché erano uguali le porte adesso te lo dico sappi che c'è un altro pezzo che non ti voglio spoilerare dovete che chierai addosso adesso troppo bene grazie qua sotto invece qua sotto invece qua sotto invece vai ma porca puttana ma non è possibile giocare a sto gioco di merda porca puttana eva mignotta ladra laida fermo 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 che quelli sono proiettili si ma si è già pieni si è già pieni ma è il fucile più potente cazzo dai ma come cazzo si fa va beh dai pazienza ma pazienza è un cazzo adesso crepo usa sto fucile però aspetta che fucile hai? la k47 è un fucile? metti la doppietta ma ha solo due colpi va bene togli sta gatto ma sopra noi non siamo andati sopra sopra cosa c'era? non so prova ad andare sopra dove cazzo si madonna mia è da qua che si sta dai no stai attento senti usa le armi da fuoco io non voglio che ah no però poi c'è il pezzo però tanto il pezzo non ci arrivi se non usi le armi da fuoco c'è un altro cadavere qua sulla tua sinistra io porrei fine si ma vuole questo qua è morto non c'è un cazzo a parte lì che dice cerca le cassette del pronto soccorso è lì che tengono le mie c'è un altro qui cos'è stato? c'è un altro lì tu anche io mi sto chiedendo che cazzo di musica hanno fatto vuoto ovviamente mamma mia che parla andiamo a stare un cazzo di musica perche' forse vai su prova ah no qua è la porta no 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 ma per far vedere no che mi agito mi può più il tuo ascisso in terra che non so perché sensuale a queste cose che non puoi ritrovare. penso che la sua logica si anche tipo la porta antincendio dipito questo cazzo questa porta è chiusa cosa ci sarà di là? minchia allora dobbiamo per forza arrivare di là ah ma è sempre qua e questa porta qua la posso aprire? ah ok ok adesso è aperta che vittima? devo scappare da qua adesso andiamo giù no c'è una stanza a metà dove? hai saltato una stanza su 1 ore per la cronaca vai su su su? si hai saltato questa stanza questa? si scusa forse ho saltato questa qua cosa? uno davanti qua davanti o qua non lo so ce ne sono tanti più che uno ah ma qua c'è un passaggio lì è lì è bloccato ma che cosa c'è qua? intanto munizioni della carabina guarda anche qui di fianco c'è qualcosa? no qual è la carabina è quella che non abbiamo vero? no no le hai prese le ho prese si ma non ce le ho detto non ce le abbiamo si è quella che non abbiamo si guarda che faccia che fa tra l'altro sembra che sia successo a cagare grande è mitica c'è il problema che oh ve lo vedi? uno due tre quattro cinque ci sono cinque zombie che sto facendo sotto c'è non è che ho paura ho paura di morire perché devo rifare tutto perché ce n'è uno qua a fianco a me? guarda in basso che cos'è quella roba lì? perché è sotto probabilmente cazzo lo sai cosa mi ricorda questo rumore? dimmi se te lo ricorda anche te cosa? cazzo quando in alien andavano lì con quel robot che segnava tipo di gioco ah è sotto è sotto il secondo alien 2 si cosa cazzo è stato? hai visto anche te? si perchè mi me li fa soffi se tibiotici sole andrele ma che cazzo sono? sono giù sei sicuro? basement non so se col 100% ma altamente provato cosa è messa a luce sono a 55 a chiude un attimo non so prima che questa porta qua è chiusa cos'è sta roba? attiva che cos'è? non lo so lo scanderito ah no è il gioco ma vaffanculo chiudi questa merda ah dai ormai aspetta aspetta non so cosa stia succedendo ma sto portando i bambini nel seminterrato le urla che vengono da fuori li terrorizzano tappargli le orecchie ti serve una scheda per questo tipo di porta ne hai già trovata una mamma mia kit pronto su aspetta la cosa c'è? aperta c'è una porta aperta là sotto vabbè insomma lo scopriremo al prossimo video ok? ah si? si ciao